Disabilità in carrozzina davanti al consiglio chiedono che la città diventi accessibile anche a loro. La mozione di sfiducia, il presidente del consiglio ripreso dai disabili per la frase infelice sfiduciato anche dalla maggioranza. Olive all'indigente per la finanza in comune per l'autorizzazione concessa dall'assessore a raccogliere l'olive ad un albanese indigente. Rifiuti, il sindaco di Notoresco dice stop al Cirsu, basta impianti sul nostro territorio senza alcun ristoro. Beneficenza, la partita del cuore porterà in campo l'ex Gloria della Roma, campione e i magistrati terramani. Sport Teramo, tornano per rotta e speranza a tempo pieno. Per Vivarini adesso, problema abbondanza. Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con informazioni di Teleponte in questa prima edizione del Tg. Basta chiacchiere, adesso vogliamo fatti concreti. Lo ha detto il presidente di Carrozzine Determinate, Claudio Ferrante, che ha ringraziato i consiglieri di Teramo per questo consiglio straordinario che si è tenuto questa mattina e sulla vicenda legata al presidente del consiglio, Milton Di Sabatino, che avrebbe detto che salire in carrozzina portava sfortuna, ha chiarito, ci ha chiesto scusa, le abbiamo accettate, altrimenti sarebbe stato uno sgradito ospite in una giornata come questa. Vediamo il servizio. Cosa vi aspettate concretamente da questo consiglio comunale straordinario? Concretezza. Basta chiacchiere. Noi abbiamo fatto queste due manifestazioni empatiche per dimostrare come effettivamente la città di Teramo da tantissimi anni a questa parte ha violato i più elementari diritti anche quelli di cittadinanza. Pensate anche a quelli della qualità della vita, non poter entrare in un ente pubblico, non poter entrare in un negozio, questa non è vita, anche i cagnolini possono entrare. E' una cosa vergognosa. Oggi a questo consiglio comunale ci aspettiamo delle delibere, non chiacchiere naturalmente, delle delibere perché se altrimenti, se così non fosse, già da dopodomani noi andremo alla procura della Repubblica. Perché non c'è assolutamente capitolo di bilancio che tenga quando da 30 anni uno Stato, un comune, un ente deve rispettare rigorosamente una norma. E oggi stiamo qui a giocare sui capitoli di bilancio. Ricordiamo che la norma 41 dell'86 impone addirittura alla Regione di commissariare tutti gli enti come quello di Teramo che non abbiano ottemperato e provveduto. Quindi fatti e non chiacchiere. Un piccolo, definiamolo così, incidente di percorso. Lei ha letto una splendida lettera e poi se l'è un po' presa col Presidente del Consiglio, Milton di Sabattino, su un quotidiano locale era riportata una sua affermazione, cioè non si voleva sedere sulla carrozzina perché portava male, perché gli faceva brutto, virgolettato. Ecco, cosa è accaduto e com'è andata a finire questa vicenda? Insomma, intanto si parlava di credenze popolari e di superstizione, chiariamo questa cosa. Quindi, insomma, smettiamola di parlare di stregoni. Chi sta in carrozzina soffre, ha delle difficoltà enormi. Il Presidente del Consiglio è stato amministratore di questa città di vent'anni, quindi anche delle responsabilità politiche. Non pensavamo, naturalmente, di dover leggere quelle cose gravissime e che in venti giorni il Presidente del Consiglio non ha avuto il modo di smentire. Però oggi abbiamo ascoltato le sue parole, abbiamo chiesto scusa, noi abbiamo capito, abbiamo accettato, va bene così, perché altrimenti era uno sgradito ospite in una giornata importante come questa. E appunto il Consiglio Comunale di Teramo si è impegnato a adottare tutti i provvedimenti necessari per eliminare le barriere architettoniche in città e rendere la vita più agevole ai diversamente abili. Vediamo. Quindi siamo sicuri che le vicinone saranno prese e ratificate ad unanimità ed è anche per questo che ti ringraziamo. Infatti ringraziamo tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione che hanno dimostrato davvero in questo campo grande maturità. Sindaco, un consiglio straordinario quest'oggi, in occasione della giornata dedicata proprio ai disabili. Cosa ne verrà fuori? Ma guardi, io voglio un po' partire da quello che ho anche detto, dalle premesse. Cioè la premessa è la visita che Enzo mi ha fatto qualche mese fa, dove mi ha testimoniato il fatto che lui non riusciva più a vivere, non riusciva a vivere la città, così come avrebbe voluto. Non era in grado di entrare in un caffè, prendere il caffè seduto al bar, piuttosto che prenderlo fuori, entrare in una pizzeria. E da lì è nata questa attività, che poi è andata avanti con la giornata dedicata alla disabilità, dove abbiamo potuto provare, io ho potuto provare e constatare quanto sia difficile vivere su una carrozzella, su una carrozzina, quando sia assolutamente invalidante, oltre a già la disabilità che uno vive. E quindi da lì è nata poi la volontà condivisa di fare questo consiglio straordinario, questo consiglio straordinario che poi voterà un documento, che condivideremo, ma non è tanto quello che oggi diciamo. L'importante è quello che faremo, e io mi impegno a dire che faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità economiche e non solo, perché cambi questo modo di vivere nella mia città, nella città che io mi onoro di amministrare, la disabilità. Credo che questa sia la cosa importante che oggi dobbiamo capire e votare, più che un documento, perché poi se un documento non si dà seguito non ha nessun valore. Invece la convinzione che io e che credo il Consiglio Comunale mi darà, la convinzione di fare qualcosa per chi vive una vita diversa davvero. Abbiamo sentito le parole dure dei rappresentanti di carrozzine determinate nei confronti del Presidente del Consiglio, anche se è stata una parentesi chiusa, si tratta comunque di una reprimenda che è stata abbastanza forte. Ma a questa si aggiungono nuove grane per il Presidente del Consiglio Comunale, Milton Di Sabatino, visto che dopo la raccolta firme per sviluciarlo su impulso della minoranza, adesso anche una massiscia fronda della maggioranza vuole che sia lui a dimettersi da Presidente della Sese Civica. Vediamo il servizio. Si fa alto il pressing contro il Presidente del Consiglio Comunale, Milton Di Sabatino, sulla cui posizione si fa netta la spaccatura in maggioranza, che vede il blocco dei consiglieri di futuro in contro tutti. Il Consiglio Comunale, chiamato a votare il piano di rimozione delle barriere architettoniche, sollecitato dai disabili, è stato preceduto infatti da un'accessissima riunione di maggioranza, che ha visto schierati da un lato tutti i consiglieri di futuro in che vogliono salvare la testa del Presidente del Consiglio Comunale. Tutti tranne uno, visto che anche il consigliere comunale Franco Fracassa sarebbe orientato a favore della sfiducia. Sfiducia che però, secondo tutti gli altri esponenti, non deve passare per una mozione di voto, poiché in questo modo si espone il fianco alla vittoria politica della minoranza che la propone, attraverso il consigliere Paola Cardelli. La maggioranza del Sindaco vorrebbe che fosse Milton Di Sabatino a dimettersi. Saranno i capigruppo nelle prossime ore a stabilire se la mozione Cardelli approderà o meno in Consiglio. La Guardia di Finanza di Teramo ieri mattina era in comune per acquisire la documentazione relativa all'autorizzazione concessa ad un cittadino albanese a raccogliere le olive dal terreno adiacente al palazzetto dello Sport di San Nicolò e trattenerne il ricavato della vendita in cambio della manutenzione dell'oliveto e del terreno. Un raccolto che a conti fatti ha reso circa 50 litri di olio per una somma di circa 500 euro. Gli uomini delle famme gialle hanno effettuato l'accertamento preliminare sulla base di una segnalazione, ma sulla vicenda non c'è indagine avviata e tantomeno iscrizione di alcuno nel registro degli indagati. Ad autorizzare la raccolta sul terreno pubblico è stato l'assessore Giorgio Di Giovangiacomo che ha così spiegato questa iniziativa. È possibile richiedere al Comune l'autorizzazione a raccogliere le olive dietro dimostrazione di uno evidente stato di necessità. Nel caso specifico si trattava di un cittadino albanese indigente al quale abbiamo subordinato l'autorizzazione alla cura del terreno. Ho creduto, ha aggiunto l'assessore, di fare della beneficenza. Non credo di aver violato la legge per questo. Voglio però spiegarlo anche alla finanza e chiederò di poter essere ascoltato. Con l'approvazione del regolamento di ripristino da parte del Consiglio Comunale di Teramo del regolamento di ripristino dei luoghi pubblici dopo i lavori ad opera di privati, anche i cittadini potranno segnalare ad un referente del Comune casi di inadempienza nella riparazione degli asfalti. A spiegare i contenuti di questo provvedimento che ne fa di Teramo una delle prime città in Italia è il consigliere Franco Fracassa che parla anche di cauzioni salatissime previste per le ditte. Ascoltiamolo. Franco Fracassa, il Comune ha dato il via libera a un nuovo regolamento di cui si è dotato per ripristinare i luoghi dopo gli scavi da parte dei privati. Qual è l'importanza di questo provvedimento? È un regolamento che il Comune di Teramo non aveva. È un regolamento importantissimo perché dettiamo delle regole. Sia da richiedente ci sarà un responsabile dei lavori, ci sarà un responsabile nell'ambito del Comune che dovrà controllare i lavori e dovrà controllare il ripristino. È un regolamento importantissimo appunto perché d'ora in poi, cioè appena entra in vigore, perché per legge dobbiamo aspettare i 60 giorni dopo la pubblicazione, anche il cittadino ha un ruolo importante perché se la strada che lui percorre nota che non è stata ripristinata a dovere, ha un nominativo del Comune dove lui si può rivolgere, dove può pretendere che quella strada torni ad essere fruibile nel modo giusto. Quindi noi abbiamo dettato delle regole, diamo delle responsabilità, ma soprattutto gli enti, fino ad oggi il ruzzo sfuggiva a questi controlli. Il ruzzo non partecipava minimamente col Comune, non collaborava minimamente col Comune e il ripristino avveniva in un modo un pochettino poco chiaro. Invece adesso anche il ruzzo, come tutti gli altri enti, depositerà 100 mila euro di cauzione a disposizione del Comune. Quindi il ripristino o viene fatto nel modo giusto o noi attingiamo da quella somma. Una vasta operazione di controllo del territorio ha permesso agli agenti della squadra mobile della questura di Teramo di arrestare due latitanti sui quali pendevano altrettanti ordini di carcerazione messi a seguito di condanne passate in giudicato. I due tra i 30 e i 40 anni erano irreperibili e devono scontare rispettivamente 5 anni e 4 mesi per reati contro il patrimonio e quasi 7 anni per detenzione ai fini di stupefacenti. Quest'ultimo era stato arrestato proprio nel corso di un'operazione antidroga. Si tratta di un cittadino rumeno. Operazione antidroga che si era svolta nel febbraio del 2009 ed era stata condotta dalla stessa squadra mobile Teramana. In quell'occasione gli agenti della Polizia di Stato sequestrano ben 14 kg di eroina nascoste dentro la sua abitazione. L'operazione di controllo odierna del territorio ha riguardato esercizi artigianali e commerciali, abitazioni private, circoli privati e nightclub. Dramma invece questa mattina in un negozio di via Nazario Sauro in pieno centro a Teramo, un uomo di 88 anni mentre era impegnato a fare la spesa, ha accusato un malore e si è accasciato a terra senza vita. Inutile il soccorso portato dal titolare dello stesso negozio e dal personale del 118. Secondo i primi accertamenti del medico legale l'uomo è morto stroncato da un arresto cardiocircolatore. Oltre 200 ragazzi hanno partecipato alla sala polifunzionale della provincia di Teramo questa mattina alla cerimonia di premiazione del concorso Enel Play Energy che ha coinvolto gli studenti delle scuole terramani. I lavori presentati sono stati realizzati sui temi dell'ambiente e dell'energia. Seguiamo questo servizio. Adesso abbiamo un attimo di difficoltà, vedremo tra un po' questo servizio. Passiamo a Giulianova. Ma quale cittadella dei servizi e sede INPS? Nell'ex tribunale di Giulianova deve andarci il nuovo polo scolastico. Di sicuro la De Amicis e la scuola di Bibio Bellocchio. Va avanti per la sua strada Laura Ciafardoni, capogruppo di Forza Italia Nuovo Centrodestra in Consiglio che insieme alla lista linea retta proporrà una raccolta firme sulla proposta. La Vasanella, capogruppo del Partito Democratico, dice troviamo una soluzione condivisa in Consiglio Comunale come è fatto anche per la caserma dei Garabinieri. Ascoltiamole. Adesso terminato il tormentone alla caserma comincia il tormentone per l'ex tribunale? Ma più che tormentone questa è una battaglia che io personalmente porto avanti da diversi anni. Dal momento in cui purtroppo abbiamo perso il tribunale e anche il giudice di pace. Ho portato l'esempio della vicina San Benedetto perché a San Benedetto il sindaco a settembre ha inaugurato il nuovo polo scolastico scolastico che dico io è sorto dalle ceneri dell'ex tribunale. Non vedo per quale motivo lasciare abbandonato ormai da qualche anno il tribunale quindi una struttura che ben si presta per tutto il contorno che ha ad un polo scolastico. Ad ospitare soprattutto la scuola elementare di Amicis dai quali cadono, l'abbiamo visto, anche pezzi di cornicione e anche chiaramente la scuola di Bivio Bellocchio. Il posto c'è, il giardino anche, c'è un campetto dietro e quindi i parcheggi ce ne sono tantissimi e inutilizzati ad oggi per cui nessuna struttura si presta meglio al polo scolastico. Martino ha detto città delle servizi e l'Inps qua. Sì, città delle servizi, Inps, associazioni, uffici comunali ma assolutamente no. Sono tutte, a nostro avviso, l'abbiamo detto tante volte, promesse non mantenute. Il consigliere di Ciavardoni sta effettuando su questo argomento una raccolta di firme. Sì, inizieremo nei prossimi giorni e chiediamo appunto il trasferimento delle due scuole che ho prima menzionato presso l'ex tribunale. Insieme a me anche, lo dicevo prima, i componenti di linea retta, quindi Fabrizio Retco e Alberto Di Giulio. Per l'ex tribunale si parla, per quanto riguarda la maggioranza, si è detto città delle servizi più l'Inps, la Ciavardoni insiste con qualcun altro per il polo scolastico. Sono, diciamo, delle soluzioni, tutte e due possibili, tutte e due, diciamo, perseguibili. Ovviamente passeremo nuovamente in consiglio comunale per questo e cercheremo di prendere una soluzione condivisa. Non passi il messaggio delle opposizioni che questa maggioranza è disattenta alla, diciamo, sicurezza degli alunni perché i lavori che abbiamo fatto ultimamente alla Don Milani, alla Bindi, sono invece, diciamo, vanno proprio nella strada opposta. Quindi è un'amministrazione assolutamente attenta, non ne lasciamo indietro nessuno. Bene, adesso siamo pronti per poter vedere insieme il servizio su iniziativa Play Energy, il concorso dell'Enel che questa mattina ha premiato oltre 200 ragazzi nella sala polifunzionale della provincia di Teramo. Il servizio. Nella sala polifunzionale della provincia ha premiato i vincitori abruzzesi del concorso Enel Play Energy. Oltre 200 ragazzi presenti nella sala polifunzionale. Intanto, quali sono i numeri di questo concorso e cosa hanno fatto i ragazzi per ottenere questo riconoscimento? Allora, questa è la undicesima edizione di un progetto che va avanti da tanto tempo. Abbiamo praticamente ricevuto dei progetti da 12.000 studenti, 400 scuole e in totale i progetti selezionati sono 131. e abbiamo fatto un grosso lavoro di analisi di questi progetti ed oggi premiamo i tre vincitori una per categoria quindi elementari medie e superiori e poi abbiamo quattro progetti di menzione quindi che si sono un po' distinti. Questi sette progetti parteciperanno poi al concorso nazionale che quindi questa iniziativa si sta ripetendo in tutte le regioni e ci sarà poi il progetto nazionale. Perché avete voluto questo concorso da 12 anni fa? Allora, l'Enel ha sempre come dire organizzato delle iniziative per promuovere l'energia in gioco e per far comprendere anche ai ragazzi che studiano l'importanza dell'energia naturalmente il tema degli ultimi anni è l'efficienza cioè quindi utilizzare l'energia in maniera più efficiente perché siamo tutti orientati ad avere un mondo più pulito. Gli ex giocatori della Grande Roma dello scudetto del 1983 e altri degli anni 90 sfideranno magistrati avvocati e poliziotti teramani a Teramo e l'evento clou della manifestazione e la partita del cuore ricavato sarà donato all'associazione i bambini di Betania Onlus di Tortoreto L'evento si svolgerà lunedì prossimo 7 dicembre nel Pala San Nicolò ma nel ricco pomeriggio dalle 15 alle 22 ci sarà molto altro gare di pallamano che coinvolgono le atlete della Gommero Teramo di serie A femminile e anche spettacoli di cabaret con Maurizio Mattioli Antonio Giuliani Pablo e Pedro a San Nicolò ci sarà anche il popolare attore di fiction Gaspar Capparoni alla conferenza stampa oltre agli organizzatori hanno partecipato gli ex giocatori della Roma Nela Giannini e Faccini vediamo il servizio Seppino Nela il 7 dicembre ci sarà una partita di beneficenza in favore dei bambini di Betania tra voi Vecchie Glorie della S Roma e una squadra formata da giudici e avvocati del Foro di Teramo al di là della partita è importante per la solidarietà verso questi bambini meno fortunati Sì noi siamo continuamente impegnati ormai io uso ex no Vecchie Glorie perché vecchia già la parola vecchia mi fastidisce comunque a parte questo facciamo tante cose di questo genere qua è nata un'amicizia soprattutto tra Faccini e delle persone qua a Teramo ci ha coinvolto e noi ben felici naturalmente di poter fare qualcosa e aiutare come ripeto spesso facciamo mi ha legato mi lega un'amicizia con il presidente Romino Malavolta il quale mi ha fatto conoscere una Teramo bella vera istintiva e tradizionale e quindi mi ha dato più entusiasmo poiché sono stato incaricato tra virgolette dall'amico Berardo che era da tanti anni che ci conoscevamo e dall'amico Gianni di richiamare questi ex giocatori e convincerli tra virgolette di venire in una bellissima città a fare questo tipo di iniziativa è un'iniziativa con finalità solidaristica quindi in favore di questa associazione per i bambini di Betania e noi ci auguriamo che la partecipazione sia numerosa il prezzo del biglietto è molto basso e quindi consentirà un po' a tutti di essere presenti ci saranno partite di palla a mano di bambini partite di palla a mano femminile e nel cuore del pomeriggio del 7 dicembre una serie di partite tra ex giocatori della S Roma dello scudetto con contro magistrati avvocati poliziotti carabinieri e sarà penso molto divertente non solo lo sport ma anche spettacoli di cabaret è vero? sono stati invitati anche più comici romani da Maurizio Mattioli e anche altri ci sarà anche Gaspar Caparoni sia io sia il nostro agente principale Luigi Di Battista e il socio Gianni Di Basilio nonché mio padre siamo davvero onorati di poter prendere parte e di poter essere il main sponsor di questa bellissima iniziativa volevamo anche ringraziare il signor Giancarlo Di Fraviano che con il negozio abbigliamento Imagine presso l'Eden Center e Omniano Leggi ha reso possibile assieme a noi questo evento Notaresco dice basta agli impianti del Cirsu che funzionano a singhiozzo sul proprio territorio lo dice il sindaco di Bonaventura che ha annunciato di voler mettere un punto fermo sulla vicenda Cirsu sostenendo che Notaresco non può più permettersi di avere problemi ambientali senza guadagnarci nulla ascoltiamo quest'oggi in provincia si parla ancora di una nuova gestione dei rifiuti in seguito a tutte le vicende Cirsu note penso mai più il sindaco di Notaresco località in cui si sono gli impianti cosa ne pensa? Niente Notaresco stavolta metterà un punto fermo traccerà un punto fermo su quello che è l'impiantistica Notaresco ho detto oggi nessuno più può fare quello che ha fatto negli anni passati Notaresco io con due anni sono stato responsabile quando faccio il sindaco di portare avanti un progetto che ad oggi sembra tornare fallimentare perché insiste una procedura di fallimento che in corso il 9 dicembre si discuterà presso il tribunale abbiamo problemi ambientali perciò Notaresco stavolta dirà che le cose si dovranno fermare perché non posso più avere sul mio territorio un impianto che va a singhiozzo che viene gestito male perché attualmente abbiamo dei grossi disagi ambientali presso la mia zona perciò e poi Notaresco da due anni che non becca un centesimo di euro perché si era detto che si ripartiva e Notaresco dovrà essere ristorato Notaresco non viene attualmente ristorato e come vedo non ci sono gli sviluppi perciò tutto possiamo fare però dovranno ripassare presso la mia municipalità l'ho detto io non mi dovranno uccidere o far cadere politicamente perché Notaresco oramai ha dato e per continuare a poter gestire l'impianto dovranno cambiare delle cose perché se l'impianto viene gestito così per me CISU è un'esperienza finita hanno detto in quella zona in quella valla del Tordino sulle mie colline oramai stanno cambiando le cose si cambia verso veramente perché ci sono degli investimenti futuri industriali che produrranno nuovi posti di lavoro non posso permettere di avere a fianco un impianto che crea disagio promuovere la conoscenza della valle delle abbazie questo l'obiettivo principale del cammino dell'immacolata che partirà il 5 dicembre da Santa Maria di Propezano e si concluderà l'8 dicembre a San Gabriele della Dolorata vediamo il servizio quattro giornate intense ricche di arte natura e cultura e sacralità dal 5 all'8 dicembre un'iniziativa molto particolare il cammino dell'immacolata nella valle delle abbazie di cosa si tratta precisamente? Sì è una camminata una lunga camminata di quattro giorni nelle quali avremo modo di scoprire il territorio della valle delle abbazie che corrisponde alle vallate dei fiumi Vomano e Mavone e vedremo le abbazie ma non solo anche i borghi le torri la riserva naturale di Castelcerreto fino ad arrivare l'8 di pomeriggio al santuario di San Gabriele della Dolorata un cammino possiamo dire mistico anche in vista chiaramente del Santo Natale sì sì ovviamente anche saranno dei pellegrini che verranno anche per questo motivo per la parte più spirituale del percorso anche perché come dice lei ci avviciniamo a questo periodo che è spiritualmente più interessante per tanti camminatori anche cosa deve fare chi vuole partecipare semplicemente ci può contattare può andare su Facebook per seguire tutte le nostre attività ci sono tutte le informazioni su come aderire oppure il sito internet www.valledeleabbazie.it oppure mi può semplicemente chiamare al numero di telefono per avere qualsiasi ulteriore informazione al 346 02 30 559 c'è una quota di iscrizione sì per chi lo vuole fare tutto il costo il contributo è di 98 euro invece per chi lo volesse fare soltanto giornalmente senza rimanere per la cena e a dormire è soltanto di 19 euro martedì prossimo immacolata alle 18 nel museo delle ceramiche di Castelli si darà la cerimonia di inaugurazione della mostra la ceramica è di moda la collezione di Filippo Flocco evento promosso organizzato dalla proloco di Castelli del presidente Pio Verdone che si inserisce nel cartegone delle manifestazioni per il Natale il progetto presentato con successo già negli spazi di Casa Abruzzo a Brera nell'ambito di Espo nel giugno scorso racconta le radici della moda d'Abruzzo prendendo gusto spunto scusate dal rapporto tra le arti figurative della moda e della maiolica artistica e nasce da uno studio sui motivi cinque tedeschi delle maioliche castellane che fanno parte del corredo Orsini-Colonna e della collezione Farnese adesso è arrivato il momento di vedere quali sono le previsioni del tempo il servizio come di consueto prima della pagina sportiva è curato da meteoteramo.it Previsioni per oggi in Abruzzo al pomeriggio poco nuvoloso sulle aree appenniniche sereno sulle aree costiere in serate nella notte variabile sui settori interne e sui rilievi moderatamente nuvoloso sui settori marittimi temperature stazionarie massime comprese tra 15 e 18 gradi nelle conche aquilane e marsicane tra 17 e 20 gradi sulle pianure adriatiche venti assenti o deboli nord orientali mare calmo in provincia di Teramo al pomeriggio parzialmente nuvoloso lungo la dorsale appenninica sereno sulle zone orientali in serate nella notte nuvoloso lungo la dorsale variabile sulle aree adriatiche temperature in diminuzione massime comprese tra 12 e 15 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 11 e 14 gradi sulle coste venti assenti o deboli settentrionali mare calmo lega pro in apertura di pagina sportiva rientro sicuro di perrotta e recupero quasi certo di speranza mettono paradossalmente in difficoltà Vincenzo Vivarini che per la prima volta dall'inizio della stagione ha problemi di abbondanza in difesa il tecnico del Teramo deve decidere se inserire il rientrante per rotta o dare nuovamente fiducia a Dorazio che nelle ultime gare si è comportato molto bene nel ruolo di centrale non è da escludere del tutto però la possibilità che il giocatore ex Ancona venga inserito sull'out sinistro di centrocampo con Di Paolo Antonio dirottato sulla mediana in questo caso il sacrificato sarebbe il giovane Paolucci le reali intenzioni del tecnico bianco-rosso potrebbero emergere però nel corso della partitella contro la Berretti di Rinaldo Cifaldi in programma nel pomeriggio sul sintetico del Bonolis le partite contro Lucchese e Pistoiese ci diranno se siamo sulla strada giusta ha commentato invece Diego Cenciarelli noi abbiamo ascoltato per considerarsi una svolta dobbiamo vedere prima l'esito soprattutto della partita di domenica chiaro che sono stati tre punti pesanti contro una squadra quadrata perché il Siena è una squadra quadrata composta da ottimi giocatori di esperienza mi auguro che domenica possiamo ridimostrare il nostro valore le prossime due partite saranno contro Lucchese e Pistoiese due squadre che comunque si trovano più o meno nella nostra posizione è chiaro che dobbiamo dare il massimo e dobbiamo cercare di portare a casa più punti possibili il presidente è il capo nel bene e nel male può dire quello che vuole perché con noi è sempre stato come un padre comunque ci insulta però ci vuole bene alla fine ci vuole bene è chiaro che deve essere per noi solo uno stimolo in questo momento è più opportuno usare la sciabla che il Fioretto è chiaro che se riesce a giocare bene e a vincere è ancora meglio però è chiaro che secondo me le partite si vincono soprattutto giocando bene poche volte succede che giochi male diciamo crei per frutto del caso secondo me una squadra che gioca bene poi alla lunga vince l'anno scorso noi abbiamo sempre giocato bene la maggior parte delle partite abbiamo sempre dominato abbiamo avuto sempre il palino del gioco abbiamo concesso pochissimo agli avversari invece quest'anno concediamo un po' di più e quello che concediamo comunque gli avversari lo sfruttano è chiaro che dobbiamo migliorare soprattutto in quello secondo me adesso io Lorenzo lo stimo moltissimo soprattutto un ragazzo molto simpatico oltre che bravo comunque come giocatore al di là di quello il 96 e lo vedo anche un ragazzo umile quindi sono contento di giocare con lui e magari dagli anche qualche consiglio anche se avrei bisogno di qualche consiglio però gli voglio bene è possibile tutto nella vita non c'è niente di impossibile se giochiamo come con la stessa mentalità di domenica niente impossibile dobbiamo solo migliorare in quello sempre nel girone B che interessa il Teramo in Lega Pro la Robursiena sconfitta proprio domenica a Teramo ufficializzato il nuovo allenatore al posto di Azzori è stato chiamato Guido Carboni che farà il suo esordio sulla panchina toscana nel match contro l'Abruzzese L'Aquila in programma all'Artemio Franchi domani sera alle 20.30 adesso passiamo in serie D dove il San Nicolò è protagonista del mercato di riparazione dopo il ritorno di Chiacchiarelli ufficializzato ieri la società del presidente di Giovanni ha provveduto ad ingaggiare altri due giocatori si tratta di Francesco Terrenzio e di Stefano Cichella Terrenzio difensore nato nell'89 arriva dalla Fermana con pagine con la quale in questa prima parte di stagione ha collezionato 11 presenze nel suo passato vanta esperienze importanti con le maglie di Angolana Chieti e Giulianova Cichella cresciuto nel settore giovanile della San Benedettese invece un centrocampista classe 96 che proviene dalla Folgore Veregra in uscita hanno salutato il gruppo Biancazzurro in sei Simone Pagliarulo è passato titolo definitivo a Rieti Vincenzo Digifico finito in prestito alla Bastese Manuel Di Sante è andato al Morro d'Oro mentre Vittorio Micolucci Emiliano Nicolás Forgione e Riccardo Lazzarini sono andati via tramite la recessione consensuale del contratto nei prossimi giorni potrebbero esserci altri movimenti sia in entrata che in uscita per l'attacco in particolare piace l'ex Teramo Andrea Bucchi adesso parliamo di tennis la tradizionale festa del tennis 2015 ha fatto tappa a Tortoreto al locale circolo nelle relazioni il presidente regionale da Fit Luciano Ginestra e il consigliere nazionale Emilio Sodano hanno speso parole di elogio per l'opera svolta su tutto il territorio prima di dare in via alle prime azioni di circoli e atleti il bilancio di un anno di tennis lo ascoltiamo nelle parole di Sodano con Emilio Sodano il consigliere federale della Fit che bella serata che abbiamo trascorso sì è una bellissima serata tanti ragazzi siamo molto contenti perché il nostro movimento è in crescita costante sia per quanto riguarda i tesserati sia per quanto riguarda i tornei e ci aspetta un 2016 ancora con maggiori soddisfazioni Emilio nel tuo discorso iniziale hai fatto una sorta di classifica dicendo che la Fit è pronta per scalare la vetta sì abbiamo ormai pochi tesserati che ci dividono dalla palla canestro e della palla a volo e siamo fiduciosi di diventare a breve il secondo sport in Italia per quanto riguarda gli appassionati e i tesserati e poi la storia dell'Abruzzo negli ultimi anni vede anche una fortissima crescita sì io ricordo che otto anni fa quando ho lasciato la presidenza del comitato regionale i circoli affiliati erano poco più di 50 ora siamo oltre 75 quindi tanti segni positivi domandina è di negativo c'è qualcosa oppure no? di negativo c'è un periodo transitorio in cui non abbiamo dei buoni giocatori a livello di qualche annata però le mie notizie mi danno che per le annate dei piccolissimi invece ci sono giocatori di qualità in chiusura vi ricordiamo la programmazione prevista da Teleponte per la serata di oggi è molto interessante alle 20 va in onda il programma per bambini Io sono Lulù poi alle 21 c'è quello con vita in condominio si parlerà di tutte le novità in tema soprattutto di raccolta differenziata condominiale grazie per averci scelto io vi auguro il più cordiale buon prigio con i programmi di Teleponte l'appuntamento è per il 19.15 con la seconda edizione del nostro TG Grazie